E' bastato guardare la sala che sabato scorso ha ospitato la mobilitazione in difesa del mantenimento dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo Ritalevi-Montalcini di San Piero Patti per capire quanto stia a cuore il problema alle comunità di San Piero Patti, Montalbano e Licona, Librizi e Bacicò. Una sala gremita in ogni ordine di posto per contrastare le voci insistenti dell'azzeramento dell'autonomia dell'Istituto San Pietrino. Abbiamo avuto un sentore dello smembramento dell'Istituto Comprensivo in particolare a favore dei due istituti di patti per mantenere e far far sì che venga mantenuta l'autonomia di quegli istituti comprensivi. Non è una notizia certa, diciamo che sono delle voci, ma noi temiamo appunto che si verifichi questo. Addirittura sono state pubblicate delle proposte da parte dei due istituti comprensivi nelle quali si cita espressamente San Piero Patti e la cosa ci ha molto stupito perché non siamo stati interpellati in nessun contesto. Ed è stato lo stesso dirigente a spiegare come le leggi in vigore e i numeri diano ragione al progetto di mantenimento dell'autonomia. In base al decreto legge 111 del 2011 noi abbiamo più di 400 alunni, quindi se appunto si deve tener conto di quella legge i numeri ci sono ancora. Tra l'altro volevo sottolineare che ben da tre anni noi manteniamo praticamente un numero pressoché stabile di alunni. Abbiamo fermato l'esodo e manteniamo appunto lo stesso numero di alunni, quindi diciamo che siamo in una condizione di stabilità. Tuttavia la legge di bilancio appunto del numero 197 del 29 dicembre 2022 ha riformulato i criteri. E' vero che nella nota dell'assessore regionale del 2 agosto 2023, la 1543, all'articolo 1, c è previsto che appunto gli istituti comprensivi nei quali appunto si trova una sede di montagna non debbano essere come dire dimensionati. Questa sarebbe la deroga diciamo. Esattamente, noi abbiamo chiesto questa, la deroga appunto al dimensionamento. Tra l'altro volevo anche sottolineare il fatto che già nel 2012 San Piero Patti era stata dimensionata e è nato proprio nel 2012 l'istituto comprensivo di San Piero Patti che comprende Montalbano e Licona, Basicò, Librizi e San Piero Patti stesso. Quindi toccare due volte lo stesso istituto, gli stessi comuni a distanza di pochi anni, secondo me è una cosa improponibile. Grazie.